Il nonno del sud non ha bisogno di fingersi morto per avere tutta la famiglia unita a tavola a Natale. Casa Surace risponde allo spot della grande catena di supermercati tedesca, che aveva realizzato una pubblicità per ricordare l'importanza della famiglia nelle festività natalizie e non solo. Nello spot tedesco un anziano invita i figli e i nipoti per Natale, ma nessuno potrà partecipare. Allora si finge morto e di fronte a questo tragico evento tutti i familiari si recono a casa sua addolorati, ma quando spalancano la porta si trovano di fronte a una sorpresa. Il nonno è ancora vivo e si scusa con loro dicendo «In che altro modo avrei potuto avervi qui tutti e stare insieme?» Ecco, il nonno italiano un altro modo l'ha trovato. Il video è tutto da ridere, in pieno stile Casa Surace. «Cos'altro potevo fare per avervi tutti quanti qui?» «Papà, ora si deve fare fredda questa parmigiana!» «Papà, ora si deve fare fredda questa parmigiana!»